Ciao a tutti! Allora un video, quello di oggi, sabato 12 novembre, per dirvi una cosa molto semplice. Molto spesso vengono in negozio e si lamentano perché ci dicono che dormono male, si svegliano malissimo, tutti rotti diciamo così per modo di dire, insomma non riposano bene, la mattina sono scarichi, non si sentono rigenerati, non si sentono a posto, ecco carichi e pieni di energia per ricominciare la giornata. Quello che io mi sento di dire in maniera molto pratica, concreta, è che alle volte sottovalutiamo il sistema di riposo e cioè cosa in altri termini, cosa può darci in termini di benefici un nuovo letto, quindi un nuovo materasso, una rete nuova, un guanciale altrettanto nuovo. Bene, è semplice, vedete, ve lo sto inquadrando. Una volta scelto il materasso, provato il materasso giusto, quindi una volta che avete avuto quella sensazione giusta che possa essere per voi quel tipo di materasso, molto spesso in maniera così semplice, in maniera anche inaspettata se vogliamo, ci sentiamo nuovamente bene, pieni di energia e carichi. Bene, è molto facile rispondere a questa domanda, a questa riflessione che ci fanno molto spesso in negozio. Il materasso va scelto nel modo giusto e il più delle volte quando non riusciamo più a svegliarci bene, riposati, a dormire bene, fondamentalmente dipende proprio dal sistema letto. Quindi io vi invito a venire nel nostro negozio, quindi nel nostro reparto specializzato in via Fratelli Bencivenga, presso l'area dedicata a prodotti speciali, a prodotti specifici, Morpheus Health System, a provare il vostro sistema di riposo, perché se lo scegliete nel modo giusto, il materasso può ridurre mal di schiena, può prevenire allergie, può ricaricarvi di energia, quindi vi invito nuovamente a venirci a trovare e vi aspetto. Grazie a tutti, alla prossima, ciao!